Sono all'ingresso di Montecitorio e ti stavo inquadrando in realtà un inedito trio, ovvero Vittorio Sgarbi, candidato sindaco di Roma, l'ex ministro Spadafora... Ma che verrà da me più tardi, quindi è già sveglio, è già una bella notizia. Esatto, e sono qui a chiacchierare da un po'. Noi stiamo aspettando soprattutto perché lì ci sono due importanti esponenti del Movimento 5 Stelle. C'è Vincenzo Spadafora, ho visto io, l'altro chi è? Non mai come in questo periodo, esatto. E Buffagni in polvo come sottosegretario, anche questa è una delle partite che dovranno chiudersi in questione. Allora, brava Ludelica, continua a fare la posta, complimenti, mi sembra un'ottima idea. Allora, adesso vi porterò anche a Brescia, perché tutto questo a Brescia, secondo le...